La notizia del prossimo arrivo di un bebè nella famiglia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha catturato l'attenzione dei fan e degli amanti del gossip. Durante la recente trasmissione, Verissimo, i due fidanzati hanno rivelato alcune curiosità sul futuro figlio, rivelando anche dettagli sulla loro relazione, che ha affrontato a alti e bassi. Le dichiarazioni di Pierpaolo, accompagnate da aneddoti e un pizzico di umorismo, hanno reso l'appuntamento un momento emozionante per tutti. Il volto del bebè è realizzato con l'intelligenza artificiale. Durante la puntata di, Verissimo, Pierpaolo Pretelli ha condiviso un curioso retroscena sulla creazione di un'immagine del loro futuro bebè. La novità è stata introdotta con un sorriso, mentre il conduttore ha invitato Pierpaolo a raccontare cosa abbia combinato la sua compagna. Giulia ha utilizzato un programma di intelligenza artificiale per generare l'immagine di nostro figlio, ha rivelato. La scelta di usare questa tecnologia innovativa ha stupito i presenti e messo in luce l'approccio creativo di Giulia nel periodo della gravidanza. Pierpaolo ha poi svelato che Giulia ha impostato l'immagine realizzata come sfondo del suo smartphone. L'app richiedeva di inserire foto di entrambi, ma secondo me ha usato prevalentemente le sue, ha scherzato Pierpaolo, mostrando il suo lato affettuoso e ironico. Tale curiosità ha messo in evidenza non solo l'entusiasmo della coppia per l'arrivo del piccolo, ma anche il modo moderno in cui stanno affrontando questa nuova avventura. Oltre all'immagine del bebè, la coppia ha rivelato altri dettagli sulla loro emozionante attesa, contribuendo a creare un legame ancora più forte con il pubblico, che brama di conoscere ogni sviluppo nella loro vita di genitori in attesa. La relazione tra Giulia e Pierpaolo, dagli alti ai bassi, Pierpaolo Pretelli ha affrontato anche il tema delle sfide che lui e Giulia hanno dovuto affrontare nella loro relazione. Ci sono stati momenti difficili, una crisi seria, ha confessato, descrivendo il periodo di distacco vissuto. È stato inevitabile, è successo e ci siamo dovuti confrontare. La sincerità di Pierpaolo ha colpito molti, evidenziando che le coppie di personaggi famosi vivono le stesse esperienze di quelle comuni. Pierpaolo ha parlato di un profondo esame di coscienza che ha effettuato per comprendere le sue insicurezze e le lacune da colmare per rendere la relazione più sana. Giulia ha persino scritto 12 pagine su ciò che non le piaceva di me, ha rivelato con un tono tra il serio e il divertito. Questo gesto ha evidenziato l'impegno reciproco per migliorare la loro intesa. Attraverso questi momenti difficili, Pierpaolo ha ammesso di aver temuto che la loro storia potesse finire, ma quella paura si è trasformata in motivazione per ricostruire il loro legame. La riunione professionale dopo un'assenza di 15 giorni ha fatto riemergere i sentimenti, ribadendo l'importanza di un amore così raro e prezioso. La forza della loro storia d'amore, con tutte le sue complicazioni, merita di essere raccontata e celebrata, amplificando il loro messaggio di speranza e unità. La combinazione di sfide superate e momenti gioiosi sta rendendo la loro attesa per il bebè ancor più significativa, raccontando una storia di resilienza e passione che continuerà a coinvolgere i fan di Giulia e Pierpaolo.